Saranno sei le partite del torneo di Vareggio che si disputeranno su impianti della nostra provincia. Gli stadi interessati da questa 66esima edizione sono il Rashiti di Quarrata e il Bellucci di Agliana. Si inizierà proprio lunedì, giornata di apertura dell'intera manifestazione, quando nella città del Mobile alle ore 15 si giocherà il match fra l'Atalanta e i danesi del North Jelland. Martedì invece sarà la volta del debutto dell'impianto aglianese con Parma-Paktaktor, formazione dell'Uzbekistan. Poi una breve pausa fino a venerdì, quando ad Agliana si disputerà North Shelland, rappresentativa di Serie D, della quale fanno parte anche gli arancioni Francesco Belli e Giulio Giordani. Da non perdere neppure il match di sabato, nell'ultima giornata dei gironi di qualificazione, quando a Quarrata si potrà vedere l'Empoli contro la rappresentativa di New York. Ma gli impegni delle due città non finiranno qui, visto che martedì 11 febbraio Rashiti ospiterà un ottavo di finale e due giorni dopo il Bellucci sarà teatro di un quarto di finale. Il tutto è stato reso possibile dalla collaborazione fra l'Associazione Arte dello Sport, specializzata nell'organizzazione di eventi sportivi, e la società Olimpia Quarrata. Per loro l'impegno riguarderà anche sei partite in programma allo stadio di Alto Pascio.